benvenuti a tutti in questo nuovo video andremo a vedere come creare delle intro per i nostri canali youtube scaricate l'applicazione che trovate in descrizione che secondo me la migliore ma ve ne farò vedere due l'ho già aperta vedete qui abbiamo varie possibilità di intro queste sono le più popolari andiamo a schiacciare sulla qualità che vogliamo ci scaricherà il progetto questo qua vedete il progetto iniziale con tanto di musica dove noi possiamo andare a modificare musica testo impostazioni chiudiamo la pubblicità ed ecco qui andiamo a scrivere gas blender in modo da avere il nostro primo titolo ecco qua modifichiamo il font che vogliamo il colore vedete abbiamo vari vari tipi di font ecco qua poi possiamo scegliere l'effetto del testo come farlo scendere salire o roteare via dicendo vedete i vari tipi la velocità del testo come vogliamo che scenda veloce piano è abbastanza professionale come applicazione poi possiamo mettere dei tipo emoticon stickers che vogliamo sul nostro titolo o comunque sulla nostra intro cioè youtube avete visto qui possiamo andare a scegliere la musica che preferiamo per la nostra intro c'è veramente tanta scelta per usare questa intro c'è anche una funzione che ci fa copiare chi l'ha creata perché ovviamente è stata creata da qualcuno che sono da mettere nella descrizione del nostro canale youtube qui abbiamo altri adesivi da mettere diciamo che come possibilità qua abbiamo l'emoji è veramente molto variegata si può fare veramente una bella intro senza avere molte conoscenze tecniche vedete qui possiamo mettere un titolo e un sottotitolo andiamo a posizionarlo e a posizionarlo a scegliere font e adesso vediamo come viene mettiamo anche il sottotitolo ovviamente guida android ok andiamo a scegliere il font anche qui che sia simile a quello prima vediamo il il risultato ovviamente si può fare sia in bassa risoluzione all'inizio che in alta io ho scelto in alta non abbiamo da pagare niente è tutto gratuito vedete qui abbiamo messo tre titoli uno lo cancelliamo mi piace la cosa che si modificandolo lo spostiamo più in basso e vediamo il risultato finale adesso lo esporto ecco che sta creando il nostro video ecco qua ci apre la pubblicità non la chiudiamo eccoci qua il nostro video l'altra applicazione si chiama intro maker anche lei è questa qui come vedete qui adesso ci fa vedere il tutorial qui l'alta qualità è a pagamento si paga un canone abbiamo molta scelta anche qui vedete anche questa qua col gattino purtroppo sono quasi tutte a pagamento per avere l'alta qualità non è come l'altra intro che tutto gratuito il funzionamento più o meno è similare mettiamo il nostro titolo modifichiamo i dettagli che vogliamo adesso sostituisco il titolo non me l'ha preso ok cancelliamo il titolo vecchio e inseriamo quello nuovo ok la sblender scegliamo anche qui il font che vogliamo anche se alcuni font anche qui sono per i vip vedete i vip pagano queste cifre al mese quindi dobbiamo scegliere quelli che ci propone gratuitamente siamo un po limitati però per iniziare magari a fare video su sul canale e avere un intro ci si può accontentare anche della bassa qualità all'inizio ovviamente se uno guarda su una tv lo vede abbastanza male il video ecco qui anche qui abbiamo un altro passaggio a vip ed ecco per togliere la filigrana vedete questo è il gas blender se io voglio togliere la filigrana mi dice devi pagare queste cifre vi faccio vedere il video finale e ci vediamo al prossimo video ciao ciao ciao